E quindi che è successo? È successo che ieri durante la partita con la Viola, in un contesto di gioco al terzo minuto del primo quarto, l'Upsor mi è caduto addosso mentre stavamo contendendo un pallone e quindi ho avuto la frattura del radio. Quanto tempo dovremo aspettare? Allora, il gesto dovrò ottenerlo per 30 giorni, dopo ci sarà il periodo di riabilitazione, però credo che per l'inizio, diciamo, dopo la fine della fase regolare dovrò essere in campo di nuovo. Ma stai pensando ad un ritiro o quello è l'ultimo dei tuoi pensieri? Non se ne parla proprio, io sono duro a morire. Com'è stata la tua squadra? L'abbiamo vista un po' spenta. Guarda, diciamo che abbiamo avuto un'involuzione da quando abbiamo perso Massimo per infortunio. La sua assenza ha pesato tantissimo nel proseguo della stagione, che era cominciato abbastanza bene. Però onestamente siamo stati molto sforzati perché ci sono stati degli infortuni a seguire. Prima benedetto, dopo Massimo, adesso io, adesso il mio infortunio e quindi sta condizionando parecchio il nostro campionato. Sinceramente, quanto ti mancherà il campo di gioco per questi mesi? Vabbè, lo sai, giocare a basket per me è fondamentale. La pallacanestro ormai è diventato pane quotidiano per me. E quindi non potermi allenare, non essere... Diciamo che sarò sempre assieme ai miei compagni perché seguirò gli allenamenti ugualmente. Seguirò la squadra anche nelle trasferte, però il basket giocato è molto differente dal basket frequentato. Quindi, per il momento non avremo né il Santucci arbitro né il Santucci giocatore. Dacci una data per il tuo rientro, orientativamente. Allora, io penso per... Dopo Pasqua mi auguro di poter essere già sui campi di gioco. Giovanni, grazie mille, spero di divertirsi al più presto perché siamo consapevoli che la tua voglia di giocare è enorme. Certo, mi vedrete sicuramente da Pasqua in poi. Ce la metterò tutta. Grazie a voi. Grazie a voi.